È un rider di 30 anni, l'ennesima morte bianca in Toscana, siamo a Livorno, dove all'ora di cena del venerdì appena trascorso, come al solito, si intensificano le consegne a domicilio e William De Rose, a bordo del suo motorino, impatta con un'auto e muore poche ore dopo in arresto cardiaco, nella shock room degli spedali riuniti di Livorno. Forse andava troppo forte perché ho visto la botta, la macchina è veramente... È la velocità delle consegne. E quello comporta senz'altro dei tempi molto ridotti e per lavorare di più rischiano anche la vita questi ragazzi, sì. E d'altronde più che ne consegnano è più che lavorano, guadagnano, mance, c'è tante osse dietro a questi rider. I rider dalla zona mare stavano andando in centro per una consegna, arrivati a questo incrocio. La macchina ha girato verso sinistra e lo scontro. Un impatto molto violento, il ragazzo è caduto a terra insieme al suo motorino, l'automobilista coinvolto nell'incidente e i passanti hanno chiamato immediatamente. Il 118 immediato, l'arrivo dell'ambulanza con l'inizio delle manovre rianimatorie, ma il giovane era già in condizioni disperate e due ore dopo il decesso. Su dispositivi di protezione, io mi domando se non sia il caso di fare un passo avanti. Il ciclista che va a fare una girata in campagna ha la protezione, c'è i tessuti antistrappo, c'è il coprischiena per evitare traumi, c'è addirittura il giubbotto con l'airbag integrato. E anche se sono questioni costose, io credo che le piattaforme debbano andare oltre anche sui meccanismi proprio di protezione. Sulla dinamica dei fatti, la procura ha aperto un'inchiesta e i sindacati chiedono l'apertura di un tavolo cittadino per la sicurezza dei rider nelle ore di punta. Dovremo interrogarci tutti, a partire dall'amministrazione comunale, con lo smart working, diciamo così, legato a tutta la logistica, sia per quanto riguarda il cibo, sia anche per quanto riguarda in futuro le consegne da parte dei grandi centri commerciali, che è una discussione su come affrontare il traffico cittadino dal punto di vista di queste nuove tipologie di lavoro.